Ciao a tutti ragazzi, devo abbassare! Ciao a tutti ragazzi, sono Delex su Windup Knight Allora Nell'ultimo video E video Eravamo rimasti che avevamo finito il nono capitolo No, livello E dovevamo finire appunto il decimo Manco ho provato il decimo, quindi lo sto provando qua ora con voi Che devo fare? Mamma mia Ok Questa qua Allora No, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo Aspettate, allora Facciamo così Che già va meglio Mimario Molto confusionario Va bene, questo è molto difficile ragazzi Quindi I tagli saranno immensi Ok Qui stiamo andando bene Ah, e che cavolo questa zanzara Dai Resisti Omino Cavaliere che no, ho sbagliato Da, che cavolo Però è Troppo confusionario questa parte Pensate Devi agire subito Punto hit No, basta, non salgo Vai Vai Uno, due Perfetto E vabbè Sì Però L'ho ucciso Almeno per la patria Allora vai Allora vai Qui Superato Vai Rompi Rompi Sedere Vai Sì Sì Si passa avanti Si passava avanti Con La nostra avventura è finita A causa di uno spuntone Dritto in faccia Ragazzi Non mi salta Non mi salta Non mi Non mi salta Cioè salta quando vuole lui Non mi preme due volte Anche se io premo Cioè Non mi fa il doppio salto Anche se io premo due volte Il tasto su Quindi Non so perché C'è alcune volte lo fa Alcune volte non so No no Non so perché E vabbè Quante volte sto morendo Vabbè non è una Novità Dai 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 Due E vabbè Di nuovo per la patria Io ragazzi sapete Vorrei giocare Al Al nuovo Gioco di Di play inside Dei sviluppatori di Player inside Mi pare Si chiamano così Player inside Play inside Dai E' troppo bello quel gioco Meglio di limbo Dai Eh 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 si Sto sopravvivendo Non so come sto facendo Ragazzi Qui Giù Scendi Oddio Dai Ce l'ho fatta Si Quanto 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 Il grado Il grado Voglio sapere il grado Dai 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 Ci Fa Veramente Schifo Il Grado Che mi hanno dato Però va bene Va bene Ah che cavolo Devo tenere E lo scudo attivo Quindi Teniamo Per molto Lo scudo Così non ci succederà Niente Questo è molto facile Forse devono aggiustarla Questa cosa Perché forse Non ci hanno fatto caso Perché È molto Si esemplifica molto Il gioco Se Mantengono questa Questa cosa C'è questo rumore Di Tuoni Seguito dal Riavvio Del livello Che non serve Assolutamente A nulla Vai No Aspetta Non saltare Vai Vai Ora Aspetta Uhuh Ce l'ho fatta Cosa Devo saltare Qui Tutto Tipo il mondo Devo saltare Oh Ce lo fa E vai Si Uh Mamma mia Che liscio Dai No No Mi sono distratto Per l'ultimo secondo Quante cose Si devono fare Però Aspetta Ok Ok Posso farlo È veramente Duro Fare Finire Questo Questo Gioco Contando I Tutti i video Che ho fatto Su questo Gioco Praticamente Sono Allora Con questo Sono dieci I video Che ho fatto Che in totale Che ho fatto Che ho modificato Che Alcune Parti Le ho tagliate Dove stai andando Con Con pa Cavaliere Incredibile Dove stai andando Con Con elmo Scudo E spada Che Non so Perché Dove Uccidere I polli E I cani Sei Sei contro Gli animali Mi dispiace Io sono con Gli animali Ma di che cosa sto parlando Non so perché sto parlando Di stego Mi sono Dopato Mi sono Drogato Quando Prima Poco prima Di iniziare Il video Mamma mia Ragazzi Mi ha fatto Lo scorsa E' difficilissimo Sto gioco Serve Capacità Intellettiva No Però Un minimo Di velocità Serve Per Questo Gioco Oh Un basso Vai Vai No Non ho Premuto Il Lo scelto Lo scelto Lo scudo Non mi veniva Scudo in italiano Non so perché Eh Ole Questa parte sopra E' molto più facile Di quella sotto Naturalmente Per fortuna Che Che i sviluppatori Non hanno fixato Questa cosa Che si possono tenere Due cose Contemporaneamente E quindi Mi facilita Molto Il gameplay Questo fatto Tieni giù La testolina Vai Dai Oddio no Aspetta Vai 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 Sì Vai Forse ho finito No Ancora Forse gli ultimi due Ragazzi che dire Il video finisce qui Voi commentate Condividete Iscrivetevi al canale E noi Che bella canzoncini E noi ci rivediamo In un prossimo video Mi raccomando ragazzi Mettete mi piace Così In modo da io capire Che Appunto posso Continuare la serie E E basta E accontentarvi Per Aspettate ragazzi Ormai Siccome sto Ho iniziato L'episodio Voglio vedere Se riesco A finirlo Sto facendo cose No Perché Peccato Va bene Dai ragazzi E vi rivediamo Fisci qui Voi commentate Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci rivediamo In questo video Ciao